ragazzi da adesso ufficialmente iniziamo questa piccola avventura non sappiamo quanto durerà sicuramente ci rivivremo i momenti dell'arco in queste delle prime parti poi staremo a vedere se la cosa vi piace ci divertiremo noi continueremo ovviamente a portarla avanti quindi noi ci divertiremo sicuramente a riprovare da capo l'esperienza di genshin io gioco dal primo giorno in cui il gioco è uscito quindi ci sono dentro fino alle punti dei capelli e lo amo da morire e quindi visto che l'ho giocato tutto in inglese finora ci rigodiamo la bellezza della tutte le arcon queste direttamente nella nostra lingua ci godremo anche tutti i nomi degli artefatti e tutte quelle cose stramboidi però è un'esperienza importante perché due anni fa mai 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 nella vita avrei pensato che appunto potesse succedere questo ossia che comunque mi ritrovassi di nuovo a giocare dopo due anni a questo gioco sempre in live perché facevo le live da veramente poco e godendomi tutto 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 quindi tutto quello che è stato da un punto di vista sia di contenuto di gioco sia di anche amicizie che ho avuto e che ho creato ho iniziato a fare cosplay grazie a Genshin Impact per me Genshin è tutto è una parte importante della mia vita è stata anche la mia prima esperienza lavorativa a una fiera grande come la Games Week quindi per me riportare da capo le prime cose non ho mai creato un secondo account in due anni ne ho sempre avuto uno solo quindi io non ho più rivissute queste cose so che tanti di voi hanno un secondo anche terzo account io ne ho uno solo dal primo giorno quindi questo sarà un account a tempo più perso del mio principale che amo alla follia nel cui ci diverteremo tantissimo alla luce di questo prima di iniziare ultima cosa che ci tengo a dire che questa è una cosa carina davvero sappiate che io quando è uscito Genshin il 28 settembre 2020 stavo tornando a casa dall'università perché stavo facendo tirocinio perché stavo facendo il tirocinio per poi laurearmi grazie per il follow e praticamente mentre stavo tornando a casa ho ritardato perché ha ritardato e quando sono arrivata a casa e ho trovato Genshin che avevo già installato sul computer la mattina prima di uscire avevo la schermata con questo orario nel senso erano circa le 6 di pomeriggio come è oggi e niente avevo la prima volta che sono entrato ufficialmente su Genshin sul mio primo account era tramonto come c'è adesso stessa schermata identica avete visto no la schermata di Genshin cambia l'orario in base al momento del giorno in cui voi ci loggate così così la mia prima loggata in assoluto su questo account di Genshin è stata fatta così quindi allo stesso modo due anni dopo stessa schermata ricominciamo l'unica differenza è che a questo giro al posto di Lumin prendo Ither per fare anche la versione Canon siamo pronti siamo prontissimi siamo carichissimi quest'ultima ora di oggi la dedichiamo a questa piccolo tuffo nel passato che diventerà una serie che verrà messa via via su youtube completamente uncut quindi voi di youtube se starete guardando questo video sarà un'estraforazione di un pezzo di live che abbiamo fatto e saranno tutti uncut quindi notifiche tutto e voi qui sotto ovviamente qui con me quindi iniziamo mi sento malissimo vi giuro no mamma mia che fist raghi più di due anni fa l'ho fatta questa cosa e ci siamo e ci siamo e ci siamo ragazzi miei belli la prima volta in assoluto che ho startato Genshin l'ho startato spostando il mouse sulla mia sinistra e quindi andando verso Lumine oggi prenderò una scelta differente per vivere l'altra faccia dell'avventura e quindi selezioneremo Eater e il nome così poi mi potete aggiungere anche su quest'account qua più avanti metterò questo che è l'altro nome che io uso quando faccio appunto gaming e questo è il nome più elfico questo è il nome un pochino più elfico un po' più particolare e quindi mettiamo quest'altra versione anche se il mio vero nome è l'altro voi mi dovete chiamare sempre così Mawina eccetera eccetera questo è quello stesso che avevo anche su altri giochi sì 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 assolutamente quindi il gaming serio e quindi noi confermiamo e iniziamo e vivere tutto al contrario io ho visto tutto da Lumine no 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 Così la divinità ha portato via la sorella. Sono stata colpita da maledizione e ho perso i miei poteri. Prima potevamo viaggiare da un mondo all'altro, ma ora siamo bloccati qui. Ve lo leggo io perché ci sono io sopra. Ebbene sì. Ebbene sì. Mamma mia. Che feels. Che feels. Che feels. Quanti anni sono passati? Non lo so. Ma intendo scoprirlo. Sono stata da solo finché non ti ho incontrata due mesi fa. Oddio, io l'ho fatto tutto con l'umen. Paimon è in debito con te perché senza di te sarebbe affogata. Ce lo ricordiamo bene. Quindi Paimon farà di tutto per essere un'ottima guida. Ora dovremmo andare. Forza! Ok. Da adesso riattivo ufficialmente gli alert che avevo momentaneamente disattivato per godermi l'intro. Per tutti i ragazzi che stanno lasciando il follow, benvenuti. Io sono la content creator ufficiale di Genshin Impact. Gioco a Genshin Impact da due anni e in occasione dell'arrivo dell'italiano ho deciso di creare un secondo account dove vivremo un po' tutta l'avventura di Genshin, la parte dell'Arcon Quest, insieme in italiano. Invece di guardare direttamente dai diari dei ricordi ce la viviamo proprio su un secondo account. Il mio account principale è R quasi 60 o tutti i 5 stelle eccetera eccetera. Quindi so come si gioca. Però comunque se avete voglia di godervi questa avventura noi da oggi faremo un appuntamento settimanale in cui portiamo avanti l'account, facciamo l'Arcon Quest e questa parte intera verrà tutta messa su YouTube. Quindi quello che voi vedrete in questa live sarà poi ripostato su YouTube e lo troverete soprattutto come vedete qui sotto anche nei vostri commenti. Quindi il vostro commentary, le vostre opinioni al riguardo le vedrete insieme a me. Detto questo ora io voglio fare una roba che tanto penso di poterla fare fin da subito e mi metto subito nelle mie condizioni ottimali e quindi sono queste e possiamo ufficialmente startare. Faccio soltanto un check importante per la live di oggi e ci dedichiamo completamente a questa avventurina che faremo da qui a un'oretta oggi. Oggi facciamo la prima oretta iniziale, vediamo fino a dove arriviamo e via. Allora Perfetto Allora io poi non so se durante quest'ora avremo effettivamente messi in front page o meno però insomma voi dataci un occhio Che fortuna stavo seguendo la live dall'inizio e speravo qualcuno ha preso un secondo account per vedere tutto l'italiano all'inizio. Eccoci qua, eccoci qua e metterò su YouTube proprio perché se qualcuno si perde la live della settimana in cui lo faremo avete modo di recuperarlo da me. Io vi lascio tutti i social comunque per i nuovi così che almeno potete sapere appunto iscrivervi al canale YouTube dove verrà postato tutto seguirmi anche su Instagram, faccio anche cosplay di Genshin e ne faccio parte appunto dei cosplayer di Genshin italiani quindi vi aspetto un po' su tutti i social. Erics ben arrivato e ben arrivata anche Francesca adesso partirà l'alert a qui da poco e così qua ben arrivata anche Francesca e da adesso salutiamo anche i ragazzi di TikTok che ci stanno guardando venite qua in live sul sito Viola perché almeno vi godete al meglio questa avventura e noi iniziamo iniziamo Sentiero del Vagabondo e noi di Vagabondo adesso ne conosciamo uno iniziamo a droppare il primo drop di oggi è un granchio bene e si parte allora si cammina abbiamo la stamina che è cortissima un tipo da menare e si inizia a tirare le prime botte un bello slime idro che viene rispedito in acqua perfetto possiamo procedere il primo teleport con i teleport ragazzi qualcuno ha dei rapporti un po' particolari conosco alcuni di voi che per i primi AR10 tipo non ha usato nemmeno un teleport rendiamoci conto eppure ce lo spiegano come prima cosa Dark Wolf è ben arrivato c'è da una settimana che gioco benvenuto io gioco dal primo giorno in cui è uscito due anni fa ma questo è un secondo account per spiegare a tutti i nuovi le cose quindi benvenuto tra di noi e parliamo con Paimon eccoci qua primo teleport sbloccato apri la mappa del mondo passaggio 1 e seleziona un portale sbloccato per trasportarti in un quel luogo quindi adesso noi se apriamo la mappa che è completamente osculata e mi fa venire i brividi perché ragazzi chi diszooma adesso c'è e scende e vede teleport ovunque ovunque mi sta prendendo veramente i brividi a vederlo e mi fa anche ansia avere il cap delle resine vi dirò veramente vederlo tutto così mi fa un'impressione micidiale comunque questi sono i teleport come questo che siamo sopra noi adesso che potete selezionare portare il teletrasporto un teletrasporto vi potete teletrasportare nei punti in cui appunto vedrete qua ma poi tutta l'arcom questa la caricherai su youtube si ragazzi quello che facciamo durante questa parte del contenuto è tutto su youtube ora no ovviamente oggi la prima volta lo facciamo ma lo caricherò nei prossimi giorni completamente non editato così che vedremo tutti i momenti su youtube tutti 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 eccoci qua parliamo con Panion il sentiero termina qui dobbiamo arrampicarci e quindi ci spiegano che abbiamo una feature che è quella dell'arrampicata abbiamo la stamina chiamata vigore in italiano che vi fa vedere che voi potete arrampicarvi per un tot e si consuma quando la barra è consumata ovviamente si scarica quindi si consiglia quale di sette stai cercando di preciso ok prima questo abbiamo fatta vista dall'alto segui il sentiero che io ragazzi vi giuro i brividi la prima volta che sono arrivata qui e dicevo ma che figata ma quanto è fatto bello tutto cioè tutto era tutto bellissimo la prima volta che l'ho visto è stato spaziale che emozione vi giuro un consiglio molto utile ragazzi se siete all'inizio tutto quello che vedete raccogliete tutto tutto fa importante in questo gioco tutto è veramente importante fidatevi di me anche le lucertole che scappano ok procediamo io penso mi emozionerò più volte durante questa avventura ve lo dico sono contenta ed eccoci qua e io qua il primo brivido quella è una statua dei sette ci sono varie stati dei sette sparsi in tutto il mondo che rappresentano la loro protezione dei sette dei questo è quello che controlla il vento Paimon non sa bene se tu stia cercando il dio di animo ma Paimon ti porterà prima nel luogo dedicato al dio di animo non l'ha certo scelto a caso lo straniero che catturò il vento inizia il prologo atto 1 seguiamo 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 come tutti sappiamo il linguaggio e ci sarà di sicuro qualcuno potrà darti informazioni su tua sorella o almeno Paimon la pensa così muoviamoci vedete cose che brillano animaletti impararete che io uccido tutto quello che vedo in questo gioco non vi spaventate se uccido tutti gli animaletti carini seguiamo Paimon che ci guida alla statua centrale che è la statua dei sette dedicata a Betty che è il primo degli arco puoi passare nuotando e qui ci fanno vedere che si nuota in questo gioco ragazzi incredibile anche il nuotare richiede stamina quindi non potete galleggere all'infinita a meno che non siate immobili rimanere immobili che voi vi arrampicchiate o che voi nuotiate non vi consumerà mai stamina però se vi dovete spostare ovviamente la consumate quindi soprattutto a inizio gioco tenete molto occhio alla stamina io tuttora a R59 passa quasi 60 continuo a morire affogata perché mi distraggo non guardo più la barra della stamina e muoio quindi a maggior ragione ora all'inizio via è un dato di fatto che è molto da tenere d'occhio eccoci qua tocchiamo la statua cosa che faremo tante volte nel corso della nostra avventura l'attivare le statue principali che sono anche esse teleport ma questo è uno stato è un po' diverso vi sblocca un'area della mappa visibile da appunto la visione della mappa e in questo caso Aether conferisce il potere dell'animo che anche questo è molto importante quindi a questo punto noi abbiamo sbloccato la prima area tutta la prima area se noi riduciamo la vediamo così il simbolo delle statue grosse vi permette di sbloccare le aree successive quindi praticamente questo simbolo qua permetterà di sbloccare questa parte qua e così via e quindi questo è molto importante alle statue ci si può anche curare a R grande avventura saliso e oh hai avvertito l'energia degli elementi del mondo a quanto pare ti è bastato toccare la sasola per ottenere il potere di animo per quanto la desiderino le persone normali in questo mondo non possono ottenere simili poteri con la sua stessa facilità credo di sapere perché non credo sia una cosa positiva esatto è da maleducati parlare così dei poteri che gli dèi hanno un cesso se da qui proseguiamo verso ovest arriveremo a Mondstadt la città della libertà Mondstadt è la città del vento dove si venera il dio di animo quindi visto che hai ricevuto il potere del dio animo forse lì potrai trovare degli indizi a Mondstadt ci sono molti bardi per l'appunto molti bardi è possibile che qualcuno di loro abbia sentito parlare di tua sorella in marcia allora gli elementi di questo mondo hanno risposto alle tue preghiere Paimon crede che sia un ottimo segno e da adesso ufficialmente Aether ha sbloccato la sua elemental skill a Nemo potete attaccare normalmente o se no utilizzare l'elemental skill che ha un tempo di ricarica che fa danno turbinio lo swir viene tradotto in turbinio almeno impariamo anche tutti i termini fin dall'inizio e quindi praticamente così facendo lui ha due tipi di skill all'attacco normale o se no può utilizzare il caricato e invece la burst che è la skill quella più potente è questa questo bel tornadino che li ammazza tutti lasciati guidare al vento questo simbolo è quello dell'achievement obiettivi eccolo qua ci sono tantissimi achievement tantissimi io continuo a sbloccarne in continuazione anche perché con l'aggiornamento delle patch ragazzi continuano a darne tantissimi tenete sempre d'occhio la lista degli obiettivi perché ovviamente le primogenze questi bei cristallini che vedete di lato sono la valuta che vi permette di fare tutte le cose più importanti del gioco mengnam grazie per il follo ben arrivato quindi tienetele sempre d'occhio tra l'altro ci sono un po' di ricompense a prendere ma queste le guarderemo dopo e voi tanto il luidi lo vedete qua in basso se mi volete aggiungere voi ragazzi che venite da più tempo in live aggiungetevi pure assolutamente e adesso proseguiamo ragazzi col tasto opzioni puoi chiamare Paimon nella schermata che è questa schermata qua visualizza i comandi qui c'è una spiegazione breve su come appunto tutto configurazione i comandi possono essere personalizzati se vi trovate male con quelli preimpostati qua potete migliorare grafiche e tutto qua appunto volumi messaggi eccetera potete modificare la lingua di gioco perché io ho creato questa avventura perché è stato introdotto l'italiano che fino a qualche giorno fa non c'era e quindi non abbiamo potuto vivere tutto quello che volevamo vivere magari della nostra lingua della storia principale quindi ce lo godiamo adesso eccetera eccetera possiamo procedere tutte le varie cose quindi andiamo a chiappare un pesciolino e seguiamo il simbolo nella mappa qui sopra di me c'è la mappa che è piccolina noi dobbiamo seguire i simbolini gialli che ci danno la linea della quest principale quando avete il simbolo contrassegnato di giallo è la quest principale adesso scappa la despona si è desponato prima che lo prendessi e quello cos'è? ebbene si torniamo a questo punto qua altra cosa molto importante mentre andate al giro troverete alcune volte delle casse come questa circondate da una specie di aura rossa vuol dire che sono loccate e spesso per sbloccarle bisognerà o uccidere i nemici che le stanno controllando o sbloccare dei meccanismi intorno in questo caso ragazzi semplicemente uccidendo questi tre tipi vi la sblocca e poi c'è una guida che vi fa vedere tutte le volte quando sbloccate qualcosa di nuovo è molto importante anche questa grazie per il follow benvenuti in live ora che è in italiano se mettete il gioco in italiano se qualche cosa che vi capita nel gioco non avete capito perché l'avete fatta basta tornare lì e potete leggerla ora sta bruciando tutto quindi esiste l'effetto della bruciatura e quindi vedete stiamo perdendo un po' di vita anche quella va tenuta d'occhio sempre soprattutto ora che siamo all'inizio e abbiamo una vita molto bassa vedete raccogliete e abbiamo ottenuto i sigilli a Nemo che voi non vedete perché ci sono proprio sopra io in questo momento però ci sono i sigilli a Nemo che vi spiegherò più avanti quando arriveremo a Mondstadt che cosa servono ora intanto seguiamo la quest che ci conduce in questo boschetto che per chi ha già giocato come me sapete benissimo cosa sta per succedere mentre per tutti gli altri sarà magari se è la prima volta che vi approcciate al gioco con questa live una piccola esperienza nuova che magari vi spingerà a avvicinarvi ancora di più al gioco procedi nel cuore della foresta e noi lo facciamo eccoci qua guardala tranquillo va tutto bene ora sono qui sta parlando con un drago chi va là ci è mancato poco che Paimon volasse per aria per fortuna Paimon è riuscita ad aggrapparsi ai suoi capelli grazie ma forse non me li hai strappati ma cosa è successo Paimon temeva che saremmo stati divorati ha di sicuro a che fare con quello stramboide che parlava con il drago non riesco a credere che i draghi esistano si Paimon sa bene cosa ti preoccupa cos'è quello lì su quella roccia enorme c'è una cosa qualcosa di rosso che brilla andiamo a dare un'occhiata più da vicino Paimon ha una brutta sentazione incontri silvestri eccoci qua cristallo cremisi Paimon non ha mai visto una pietra come questa non ho idea di cosa sia Paimon sa solo chi è pericolosa sarà meglio metterla da parte per ora bene ora è presa ora filiamocela livello di avventura numero 3 e adesso ci spostiamo andando verso Mondstadt che è appunto la città dove ci è stato consigliato di andare e quindi noi procediamo l'abbiamo rubata esattamente l'abbiamo proprio rubata e adesso succede un'altra cosa incontriamo qualcuno ehi tu ferma dove sei che il Dianemo sia con te viandante sono Amber vigilante dei cavalieri di Favonius non sembrate cittadini di Mondstadt vuotate il sacco chi siete non vogliamo guai è quello che dice chiunque che sia in cerca di guai Greta ben arrivata ciao io sono Mawipiel non mi sembra un nome del posto e chi è questa specie di mascotte che è con te siamo amici per dire viaggiamo insieme da solo un paio di mesi ma siamo già diventati amici inseparabili avrei da ridire per farla breve siete compagni di viaggio dico bene beh di recente è stato avvistato un grosso drago nei dintorni di Mondstadt farete meglio entrare in città il prima possibile non è lontano da qui vi accompagnerò io non sei qui per fare qualcos'altro è vero ma non temete posso occuparmi del mio incarico mentre vi tengo di al sicuro inoltre non so ancora se posso fidarmi di voi due perché sospetti di noi due scusate probabilmente non dovrei dire nulla del genere essendo un cavaliere vi porgo le mie scuse bizzarri ma rispettabili viaggiatori che scuse false avete qualcosa da ridire sul linguaggio da usare riportato del manuale dei cavaliere di favonius che scuse false mi ha fatto morire e qui con questa bella animazione otteniamo il primo personaggio del gioco oltre al traveler amber personaggio a 4 stelle utilizza l'arco è un personaggio che vedrete via avanti tutti tendono ad abbandonare però come ti dici i primi amori non si scordano mai è il primo personaggio che in qualche modo puliamo droppiamo mettiamola come vogliamo quindi alla fine non si fa che volerli un po' bene tutti ad amber vero cioè a vederla qua davanti a noi nonostante nessuno di noi tranne lux il signor lux enjoy her in chat l'ami alla follia e la utilizzi penso quasi nessuno dei presenti la utilizzi al momento ma a noi questo poco importa ragazzi noi vogliamo bene a questa bimba tanto tanto bene vero così quindi possiamo procedere andiamo allora switchiamo su amber quindi vediamo che possiamo utilizzare due personaggi in team e sfruttiamo la mossa di amber miriamo e colpiamo amber utilizza l'arco e con l'arco possiamo come con tutte le skill utilizzare gli attacchi base o gli attacchi caricati la cosa carina degli archi in generale è che quando si carica l'attacco si carica dell'elemento quindi diventa di fuoco la sua freccia cosa che quando tiriamo un attacco normale invece no non ha un elemento prendiamo un'altra bella cassa per aprire la ruota ruota che vi fa selezionare la sezione personaggi e vi fa vedere la vostra amber e il nostro ether che si chiama mawithiel ether mawithiel vabbè allora prendiamo ether e ci fa dare un'arma abbiamo trovato un'arma a due stelle che è meglio di quella che ci danno all'inizio la switchiamo quindi cambiamo e equipaggiamo questa qua spada d'argento prima avevamo la lama smussata proprio una spadaccia terribile adesso spada d'argento perfetto possiamo procedere va bene lasciate che completi il mio incarico poi vi tirerò ad apprendere gli avvisi all'interno della città ok prende gli avvisi ma prima amber ha un altro compito dobbiamo andare di qua eccoci qua dobbiamo innanzitutto sbloccare un nuovo teleport vi ricordate all'inizio abbiamo sbloccato questo e questo ovviamente o la facciamo tutta a piedi o sblocchiamo i teleport durante il percorso per poterci spostare più facilmente quindi ah un irishurl questi sono i mob più semplici da battere insieme agli slime e troveremo a giro io non sono molto brava con l'arco è un mio limite infatti guardate che brava reazione elementale in realtà abbiamo due elementi che non cioè workano ma workano peggio di altri ok dobbiamo andare a questa base eliminare gli irishur dell'accampamento e otterremo anche una cassa allora quando sono fermi sono bravissima vi assicuro o se no vedete più avanti ci sono dei personaggi come ad esempio Ganyu che una freccia poi esplode nei dintorni e quindi fanno male a tutti in contemporanea quello è il divertente perché anche quando sei negata come me a mirare ci sono i personaggi che ti vengono incontro l'elementale invece di amber genera praticamente un pelusce che tanto i nemici li provoca quindi i nemici si concentrano sul pelusce e quando esplode tra l'altro fa danno fa una piccola esplosione a un certo punto boom però i nemici non vi considerano quindi voi nel frattempo potete stare a menarli e loro non vi filano di striscio minimamente e abbiamo sbloccato la cassa ah nulla di che ma devo dire che i vostri movimenti mi hanno stupita grazie dell'aiuto come vi è sembrato un gioco da ragazzi ora che mi ci fai pensare come hanno fatto gli hirishur a finire qui non sembravano creature che si occupano così vicine ad una città del genere esatto solitamente restano molto più lontani nella natura selvaggia purtroppo negli ultimi tempi quel drago terrore alato è stato molto attivo i nostri fruttetti sono stati distrutti e il mercato locale ne ha risentito quando le tempeste ci colpiscono spesso ci sono dei feriti e i cavalieri di Favonius fanno quello che possono per difendere la zona quindi queste creature così fastidiose si stanno spingendo sempre più vicino alla città proprio così ma ora che abbiamo sgombrato questo accampamento l'intera zona si è fatta più sicura venite con me non sarei un cavaliere responsabile se non mi assicurassi che arriviate sani e salvi in città e via che ricordi io sono contenta che mi iscrivete in chat che ricordi che feels perché l'obiettivo di questa campagna era sia per i nuovi se magari arrivano sul mio canale youtube o qua in live approcciarsi al mondo con qualcuno che ci ha già giocato così che possono chiedere tutte le cose che vogliono sapere eccetera eccetera sia per come me quelli che giocano dal day one i nostalgici rivivere i momenti più belli in italiano quindi voi che vi state emozionando mi rendete felicissima zira il 91 grazie per il follow quindi godetevela anche voi godetevela anche voi a tempo perso nel frattempo farmate sui vostri accanto r56 58 60 e intanto vi vedete un piccolo eater che entra per la prima volta a monstat tutto commentato da me anzi se ve la fate anche qualche fotina alla live poi me le salvo quelle di oggi non importa che la postiate poi magari me la mandate di questi primi passi nuova missione l'arte culinaria di Lynn non è la missione principale ma vedete andando in giro spesso e volentieri vi compariranno missioni alternative parlando con i personaggi potete sbloccare alcune quest secondarie ce ne sono tantissime si distinguono in tanti tipi ci sono la quest principale ci sono le storie queste che sono quelle che vi permettono di conoscere meglio i personaggi ci sono le world quest che sono quelle appunto del mondo tutte fanno esperienza tutte danno ricompense tutte sono da godere soprattutto adesso che c'è l'italiano parliamo con la nostra Lynn cosa dovrei cucinare dopo? anche voi siete viaggiatore di queste parti? noi siamo solo di passaggio cosa stai cucinando? che buon odorino! capisco benvenuti viaggiatori sono Lynn l'esperta di sopravvivenza della Gilda degli Avventurieri come potete vedere sto provando alcune nuove ricette ciao Greta benvenuta mangio prima di partire la prima regola del manuale di sopravvivenza nella natura un picnic! oh poi man adora i picnic! anche il mio compagno di viaggio qui presente sa cucinare so preparare solo alcuni piatti semplici bene vediamo cosa sai fare non vi capiterà spesso di avere la possibilità di imparare da un'esperta di sopravvivenza in quel barile laggiù ci sono dei funghi e della carne prova a preparare uno spiedino al pollo e funghi quindi ci spiegano è una feature che c'è la cucina dobbiamo selezionare gli ingredienti che ci servono abbiamo due tipi di cucine questa è quella in cui noi facciamo i piatti che noi poi mangiamo nel gioco che ci danno dei buff punti vita ci fanno risorgere nel momento in cui moriamo ci danno la def ci aumentano l'attacco ci sono tantissimi tipi di buff differenti poi c'è una seconda sezione che è questa del prepara che vi permette con materiali droppati nella natura di cucinare dei o meglio preparare degli ingredienti che vi serviranno per i piatti principali è tipo una scaletta però i piatti principali sono questi noi abbiamo detto di farci uno spiedino quindi ci servivano pollo e funghi noi abbiamo raccolto pollo e funghi sì quindi facciamo lo spiedino per cucinarlo c'è questo minigioco molto simpatico di doversi fermare un po' alla cookie mama style una volta che l'avete fatto cinque volte vi farà fare tutto in automatico tutto zx grazie per il follow tutto tutto e pensare ho iniziato a giocare un anno fa questa live mi fa ripensare a tutti i miei momenti vistosi dall'inizio io gioco da due anni quindi pensa quanto sono emozionata in questo momento sono contenta che questo sia il feel generale di questa live questo è l'obiettivo e di tutte quelle che faremo una volta a settimana quindi assolutamente sì bene lo spiedino vi l'ho fatto riparliamo con la nostra amica Lynn finito? che profumino vediamo è molto gustoso ci sai fare davvero Paimon te l'aveva detto con le sue abilità a cucinare dovresti provare dei piatti più complessi ho delle materie prime nella borsa prendetele in cambio di questo pasto possiamo davvero prenderle? non finirai gli ingredienti? non c'è problema quando si va in esplorazione della natura bisogna essere in grado di trovare un sacco di ingredienti non dimenticate di cercare attentamente motivo per il quale vi dico di raccogliere sempre tutto a Mondstadt c'è un ristorante conosciuto come il buon cacciatore che vende cibo e ingredienti date un'occhiata quando avete tempo ok grazie per l'informazione ehi lascia qualche spiedino di pollo a funghi anche per Paimon ovviamente Paimon vediamo fin dai primi minuti di gioco quanto sia selfish quanto pensa sempre Sholat e Sessa il ristorante del buon cacciatore procediamo eccoci qua che arriviamo a Mondstadt per la prima volta Saga King grazie per il rifollo benvenuti live eccoci qua i piccioni di Timmy e questo è Timmy un altro main character della storia per chi è nuovo vedrete riempire quattro stomari è complicato e quindi salutiamolo Paimon in casseruola assolutamente eccoci qua arriviamo a Mondstadt la città come ci hanno presentato della libertà risorsa particolare intorno a Mondstadt troverete lo spawn di questi Eldom grazie per il follo quindi ora Anita che novità ci sono il gioco come era prima però tradotto completamente in italiano io gioco dal day one quindi ho un account portato avanti in questo sto rifacendo vedere da capo tutta la storia tutta tutta la storia poi tutte le novità devi appunto entrare e vederle perché se non giochi da un po' magari ti sei perso tante cose sono uscite comunque vi dicevo qui intorno a Mondstadt c'è uno spawn di questi questi qua sono Dandelion che ora nel gioco qua li hanno chiamati Seme di Dente di Leone infatti sono Denti di Leone o Soffioni raccoglieteli perché queste sono una risorsa che serve per ascendere alcuni personaggi il termine ascensione significa poi renderli più forti portandoli su perché vedete che si portano su di livello però poi per fare da un livello a un altro servirà anche fare un'ascensione intermedia e per farla servono tanti materiali differenti ce ne sono svariatissimi anche perché le regioni adesso sbloccate in tutto sono 4 da quando è uscito il gioco quindi la quantità di materiali da farmare è infinita e di conseguenza vi dico questi servono responano ogni 2-3 giorni quindi vi consiglio se ci passate davanti raccoglieteli perdete letteralmente un secondo però almeno vi siete presi del materiale che vi servirà poi se pullerete ad esempio un personaggio come Venti avrete bisogno di questi no non Venti scusatemi Eula Eula o Gin i Dandelion Venti e Cecilia bene possiamo procedere eccoci qua Lawrence e Sean ai nomi non li hanno cambiati nemmeno di questi personaggi avevo paura che lo facessero e invece no e invece no livello 4 eccoci a Mondstadt la musica bellissima bellissimo anche solo così lasciate che vi presenti ufficialmente la città del vento dei denti di leone e della libertà viaggiatori sono sotto la protezione dei cavalieri di Favonius Mondstadt vi dà il benvenuto finalmente non dovremo più arrampicarci no accamparci all'aperto ma i cittadini non sembrano particolarmente contenti negli ultimi tempi Terroialato ha terrorizzato tutti del resto Terroialato se non terrorizza lui ma finché abbiamo Jin Jin dalla nostra parte tutto andrà per il meglio Jin la grande maestra reggente dei cavalieri di Favonius Jin la protettrice di Mondstadt finché Jin è dalla nostra parte neanche il perfido Terroialato potrà sconfiggerci siamo una persona di grande valore prima che mi accompagni al quartier generale dei cavalieri di Favonius ho un regalo per te ma Wittiel un premio per aver meritato a sgomberare l'accampamento degli Irishurl ehi ehi e Paimon non ha diritto a un premio è solo che questo premio a te non serve Paimon ma ti posso offrire un piatto tipico di Mondstadt l'arrosto al miele arrosto al miele venite venite a dobbiamo raggiungere parte alta della città questa è una cosa molto carina ragazzi ora la vedrete insieme a me praticamente adesso ci sblocca la capacità di planare che nei giochi che c'è l'open world è veramente importante quindi ci facciamo un piccolo ingresso dentro a Mondstadt città che rimane bellissima io intanto leggo anche le cose che scorrono sotto qui abbiamo un teletrasporto da sbloccare lo sblocchiamo subito la taverna locale vicino alle mura della città tutti i posti che non sappiamo assolutamente cosa siano vero raga assolutamente roba mai vista mai sentita andiamo su di qua su di là ma dobbiamo ricordarmi che non ho abbastanza stamina ora perché appunto abbiamo iniziato adesso a giocare quindi dobbiamo ricordarmi che non ho la stamina per fare grandi cose link grazie per il follow benvenuti in live esatto tutto completamente nuovo tutto e fedele grazie anche a te per il follow benvenuta eccoci qua ah già c'è il teleport anche qua ma devo andare in cima ci fanti grazie anche a te ben arrivati allora andiamo a parlare con Amber che dovrebbe essere da queste parti se non sbaglio o semplicemente dobbiamo equipaggiarlo e planare mi sembrava che dovessimo equipaggiarlo noi e planare tipo da qua una cosa del genere esatto fatemelo equipaggiare allora se noi andiamo sul personaggio andiamo sul camerino ah no devo ancora fare quell'altra cosa prima ok questo raggiungi la posizione indicata da Amber la missione me l'ha tolta quindi non me la fa vedere cattivi eccoci qua infatti mi sembrava fosse questo il punto ma non me la segnalava oh il dono che ho per te è un aliante i vigilanti li usano per cavalcare le correnti d'aria anche i comuni cittadini di Mondstadt li adorano siamo venuti fin qui affinché tu possa provarlo nel migliore dei modi questi alianti ti piacciono proprio tanto eh ovvio il vento è il cuore e l'anima di Mondstadt banda alle ciance è ora di provarlo è facile da usare ti basta seguire attentamente le mie istruzioni e adesso appunto quello che volevo far vedere poco fa ma non mi aveva aperto la quest perché al contrario era al contrario comunque si plana così ci si lancia e si vola let's go e raggiungiamo Amber pericoloso plana con prudenza pericolosissimo ragazzi proprio siamo al rischio di vita in questo momento eccoci qua missione fatta mico grazie per il follow benvenuti in live eccoci qua una tormenta il cielo che feels ragazzi che feels lo stom terror arrabbiatissimo terrore alato perdonate il terrore alato arrabbiatissimo non Meno male ci ha dato l'aliante Amber Immaginatevi se non ci aveva dato l'aliante qualche secondo prima Immaginatevelo se non ci aveva dato l'aliante Che fine facevamo Eccoci qua Come fai a flutturare in aria con una semplice aliante? Sto impedendo che tu cada grazie al potere di 1020 Voce misteriosa Ora concentrati, immagina a controllare il vento e sfrutta la sua forza E c'era questa cosa da fare Chi sta parlando? Che bello, tutti questi dettagli del parlato li avevo un po' persi, vi giuro Ci li avevo un po' persi Allora ragazzi, questo è diventato uno di quei giochi in cui si fanno le combattimenti aeree Ma in realtà è fine a se stesso questo momento Tranquilli, una cosa del genere Per fortuna e per sfortuna non si verifica praticamente più Cioè lo fate adesso Ci sarà un momento successivo in cui succederà roba Però poi Io infatti c'ero un po' rimasta male la prima volta che ho fatto sta roba Vi giuro Cioè dicevo ma Ma che cos'è? Ma che cos'è? E via Pai monta dove sta parlando Bo Bo non si sa Ok Bellissimo Tutto bellissimo È tutto bellissimo in questo momento Vi giuro È tutto bellissimo E adesso planiamo E torniamo Grazie all'aliante di Amber Se no eravamo probabilmente messi molto 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 male Ah è davvero il potere necessario per affrontare il drago Sarai un nuovo alleato o un'altra tempesta? Ta da Ta da Ta da Ta da Ta da Terrorialato Sta attaccando Mondstadt Keia Ma Whittiel Per il momento giusto Dobbiamo Aspetta Amber Sbaglio O non ci hai ancora presentati Oh sì giusto Noi a Keia Capitano della nostra cavalleria Loro sono due viaggiatori provenienti da lontano Paimon e Ma Whittiel Molto lontano? Davvero non sappiamo altro di loro? Per farla breve Bla 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 Spiegone Ho capito Benvenuti a Mondstadt Purtroppo non siete arrivati nel migliore dei momenti Capisco quanto sia angosciante essere Lontani dalla propria famiglia Non capisco bene perché cerchiate il Dio Nemo Ma tutti quanti abbiamo i nostri segreti No? Tranquilli Non insisterò ulteriormente Per prima cosa Da parte dei Cavaliari di Favonius Vi faccio i vostri sentiti ringraziamenti per averci aiutati Beh non potevamo certo lasciare la situazione che precipitasse I vostri sforzi per difendere la città del drago Sono stati ammirati da un grande numero di cittadini Anche la grande maestra reggente dei Cavaliari di Favonius Una a caso È molto interessata a conoscervi Vi invita formalmente entrambi al nostro quartier generale Una a caso Camerino Sbloccato il Camerino Adesso abbiamo la possibilità di avere degli Alianti Quindi vi vado dove ero andata prima Aspettate che Andiamo qua Un attimino C'è la sezione Camerino E qua praticamente ci sono le skin Per chi ce le ha E gli Alianti Abbiamo quelli base per il momento Ci sono alcuni Che tipo questo non lo potrò otterrere in quest'account Perché è una ricompensa del lancio Quindi ufficialmente Questo qua Solo Ed esclusivamente Chi appunto Giocava dal day one È stato quello del lancio Per la pre-registrazione E poi ce n'è un altro Che qua non è visibile Che se non sbaglia È questo qua Che è per questo qua Che è per quelli che giocano da Playstation Quindi io giocando da PC Questo non lo potrò avere Tutti gli altri che vedete qua Sono tutti ottenibili in gioco Ce ne sono anche altri due Che non sono ottenibili Uno era per la collab con il KFC E l'altro invece Era per un'altra questione Dovuta appunto ad un evento Che c'è stato l'anno scorso Nella mail dovrei avere roba Nella mail ho roba Infatti andiamo a vederla Però quando sblocchiamo i wish Perché adesso siamo A R5 Dovremmo No 4 Dovremmo arrivare al 6 Per il wish E non ricordo se è dopo questa conversazione Comunque Da qui a non molto Eccoci qua Nuovo messaggio Oppure altra posta Entra nel quartier generale Dei cavalieri di Favonius È il quartier generale Cavaliari di Favonius Diamo un'occhiata all'interno E noi piugiamo Entra nel QG Dei headquarter Dei cavalieri di Favonius Scala la prima full Grazie per il follow Hi Welcome Jin Jin Perché tanta fretta Ci siamo accordati per incontrarli qui Tra l'ora lato è stato Ma è stato fuori città Non appena li incontreremo Dovremmo Rilassati Darò una mano anche io Quando sarà il momento Jin Non li ho portati qui Che bello Leggerli così Veramente Che bello Che emozione Ciao 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 ci conosciamo E una volta finito Li ho portati subito qui Monsta Davide è il benvenuto Viaggiatori del vento Sono Jin Gran maestra Reggente dei cavalieri Favonius Lei è Lisa La nostra attuare Bibliotecaria Cioè Conoscete tipo La persona più imponente Della città E poi Lei è la bibliotecaria Mi ha sempre fatto ridere Anche in inglese Questa presentazione C'è una E la Gran maestra Reggente dei cavalieri Favonius E la bibliotecaria Accanto Anzi Ara Siete venuti qui Per aiutarci tesorini Siete proprio adorabili Purtroppo Il vostro semplismo Non è dei migliori Terrorelato Ha creato Molto trombusto In questa regione Da quando è tornato attivo Per farla semplice Le linee geometriche E la sfera elementale Di Monsta Ora sono un gomitolo Tra le zampe Di un gattino Per un mago Esistono poche situazioni Peggiori di questa Un'alta particella elementale Temo che la mia pelle Inizierà a infiammarsi Più che mai Se non fosse stato Per questa interferenza I cavalieri Favonius Sarebbero trovato Modi migliori Per aiutarvi Anzi Limitarsi ad affiggere Dei manifesti Di persona scomparsa Vi chiediamo solo Di riposare a Monsta Mentre vi aiutiamo A cercare Sua sorella Voglio dare una mano anch'io Anche Paimon Vuole contribuire Bene Se è così Ci serve un piano Ora che terrore Alato ha iniziato Ad attaccare Direttamente Mondstadt Potremmo avere Una possibilità Di risolvere Il problema La radice Le magie di localizzazione D'Elisa Hanno svelato Le fonti Del potere Di terrore Alato Ah sì? Si trovano Nelle rovine Abbandonate Dei templi Dei quattro venti Terrore Alato Riesce a evocare Tempeste così forti Attingendo al potere Di quei luoghi Il nostro obiettivo È eliminare Tre dei quattro templi Sappiamo tutti Perché sono solo tre Vero? Paimon non lo sa Cavagliari Favonius Il tempo Non ci assiste La tempesta In furia Non ha senso Mantenere la posizione Difensive D'accordo Prendiamo iniziativa E diamoci da fare Prima che la situazione Peggiore ulteriormente Desiderio Sblocchiamo il negozio E anche i desideri Eccoci qua Desiderio La funzione Desiderio È stata sbloccata Ci siamo Ci siamo Ci siamo La funzione Desiderio È stata sbloccata Ci buttano dietro Un po' di cosucce Ci buttano dietro Un po' di cosucce Iniziano le quest Io direi Che visto che comunque È già un'oretta Facciamo cose Se volete Facciamo questa prima Pullatina Su questo account Facciamo una pullatina Su questo account Con le fate Che ci danno Giusto per il gusto Di dire che L'abbiamo fatta E poi per oggi Questa parte di presentazione La interrompiamo Così Ditemi un po' Che ne pensate anche voi Allora Si è sbloccato il negozio Nel negozio appunto Ci sono varie sezioni Ne riguarderemo più Nel dettaglio Comunque Sono tante sezioni Differente La terzo data Nel doc Potuto Siete free to play E questa qua Ogni mese Vi regalano Dei fate Cinque di un tipo Cinque di un altro Che voi potete utilizzare Per pullare Quindi Questi ve lo consiglio Veramente Giuse Grazie Grazie Buona serata Desde Spagna Grazie Buce gusto E eccetera Quindi questa Tenetela sempre d'occhio Perché al mese Si refrescia Allora Abbiamo l'archivio Dove viene spiegato Tutto Quando l'archivio C'è tutto Tutto quello Che volete sapere Anche sui personaggi Vi dice addirittura Quanti ne avete sconfitti In basso C'è un simbolino Due Di questi Ne abbiamo uccisi due Di questi nove Quindi Insomma Così facendo ragazzi Potete anche Tenere di conto Di tutto Quello che avete fatto Finora Poi Qua su in alto Abbiamo il profilo Dove noi possiamo Mettere appunto Dettagli personali Quali personaggi Che abbiamo La carta giocatore Che più preferiamo Tutta una serie di cose Che uno scopre Con il gioco Si può cambiare L'avatar Per ora Abbiamo soltanto Due personaggi Quindi ci teniamo Ovviamente Perché è l'unico Che io non ho Nel mio account Disponibile Poi altre cose qua Cambia carta giocatore Imposta data di nascita Eccetera La firma Il messaggino Allora Io qua Ho l'inventario Con sicuramente Le ali E infatti Eccole qua E poi Le ricompense Quelle Per i 3 milioni Di iscrizioni Che mi vengono mollate Quindi abbiamo Una multi Nel banner Una multi Nel banner Permanente Ok Ecco qua La sezione dei wish Allora Abbiamo 11 singole E basta Io le userò Nel permanente Perché? Perché comunque Non voglio usare Il banner di Noelle Sono sincera Il banner di Noelle Non lo voglio utilizzare In questo account Anche perché Se voi sapete bene Nel video Che ho postato Delle cose da fare A non fare Su Genshin Impact Galaxy Grazie per il follow Vi ho consigliato Di evitarlo Perché è un banner Che è vero Vi garantisce Due multi Con 16 pull Invece che con 20 E quindi Vi risparmia 4 pull Ma sulla lunga distanza Sono 20 pull Che voi da questo Qui ti perdete In un pitifuturo Quindi Io queste me le schippo E le tiro direttamente Di qua C'è anche un pull Di 4 stelle Più Più elevato Sicuramente Mi esce un'arma Però Ci sarà un solo giorno Per secondo accanto Farai anche altri giorni Allora Di base L'idea è solo fare Un giorno Un'oretta Ogni tanto Proprio per portarlo avanti In maniera tranquilla Vedremo poi Come ci prende Vedremo un po' Se una settimana Facciamo più Genshin Può capitare Che facciamo Un'oretta un giorno Un'oretta un'altra Contate che Quello che io faccio qua Poi lo metto anche Su YouTube Quindi Ho bisogno di qualche giorno Poi per scaricarlo E caricarlo di là Perché Di solito carico video Di 25 minuti massimo Qui si arriverebbe Praticamente ad un'ora Quindi diventa per me Anche complicatino Starci dietro Capito Quindi Dobbiamo un po' Gestircela Però Facciamo del nostro meglio Ragazzi Se la cosa vi piace Il modo migliore Per dimostrarvi Che siete interessati E che la cosa vi piaccia Se la cosa vi piace Si va solo A guadagnare Quindi Ve la metto su YouTube Che almeno lì L'avrete sempre Così se qualcuno Si perde la live In cui lo facciamo Lo avrà comunque su YouTube Su questo penso Siamo tutti d'accordo Quindi io direi Facciamo un bello spam In chat di emoti Continuerò Visto che ne abbiamo 11 Una singola E poi una multi Volevo Goliardiche Per vedere che cosa esce Così ci facciamo Una bella risata E vediamo un po' Prima singoletta In questo banner Singolettina Singolettina Perché sono 11 4 stelle Come prima singola Fischel 4 stelle 4 stelle Fischel Come prima singola Nel nuovo banner Personaggio elettro Uno dei miei primi Personaggi Con cui ho giocato Anche io Il mio primo team iniziale Venti Barbara Fischel E Shaling Quindi Felicissima Prima singola In questo banner Assolutamente Che bello Questo video Mi avete chiesto Quando uscirà Probabilmente lo faremo uscire Sabato Perché sabato Non sono in live Quindi sabato pomeriggio Lo lascio uscire Se vi va di lasciarvelo Scorrere accanto Mentre io chiacchiero Semplicemente Lasciarci un cuoricino Un commento Mi farà molto piacere Così mi dimostrate Che la cosa vi piace E adesso Facciamo lo spam In chat di emoticon Quello serio 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 Abbiamo una multi Fischel ci uscirà Prendete Cioè il 4 stelle Uscirà alla fine della multi Perché ne è uscito una adesso Quindi doppio 4 stelle Ne dubito Però vediamo Vediamo Sarebbe carino Trovare Qualcuno di un altro elemento Per contabilanciare le reazioni Vediamo 4 stellino Cosa ci dai Cosa ci dai come 4 stelline Vediamo un po' Tun 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 Probabilmente un'arma Che all'inizio Non fa Cioè Meglio i personaggi Però vediamo un po' Tutto nuovo Fionda Vi leggo i nomi io Perché ci sono sopra Ci siete voi con la chat Spadoni insanguinato Messaggera dell'alba Arco corvino Lama fredda Lama fredda Messaggera dell'alba Dovebbe essere la prossima Manuale di magia E Non ci credo Lasci 1 di Keia Cioè vi rendete conto Che nel mio account Non è ancora C6 Mi regalano Lasci 1 di Keia Cioè questo account È già sbroccato È già sbroccato Keia C1 E adesso Con Fischl Poi Perfetto Cioè Mi hanno regalato Lasci 1 di Keia Io non ce l'ho C6 sul mio account Main Non ci sto credendo Non ci sto credendo Vabbè E niente Keia C1 Che poi in realtà Per adesso Keia non ce l'abbiamo Keia ce lo danno Adesso durante l'avventura Quindi Comunque Ho un altro personaggio Quindi fondamentalmente Ho un team di 4 Ragazzi Configurazione del mio team Se là ce la andiamo a guardare Abbiamo loro Ci sono io Sopra Eater Ma sono io Effettivamente posso fare il personaggio Aspettate Ecco Io infilo la coda Aspetta Metto anche le braccia Vado leggermente indietro Guardate Eccomi In team con gli altri Eccoci qua Insomma questo è il team Con cui iniziamo questa avventura Come potete vedere Sono io Che sono Eater Che sono io appunto Perché si chiama come me Poi Abbiamo Amber Abbiamo Fischl E abbiamo anche Keia Eccoci qua Questo è il team Ho tre braccia io Perché come vedete Ce ne sono due Poi ci sono Piacere E niente Bene Penso non ci abbiano droppato altro No infatti Non ci davano nulla Ora ci daranno fra un po' Quando avremo fatto le missioni Quindi direi che questo Mi sembra un momento Imperfettissimo Per stopparci Qua con questi amici Questi amici felici Cami Grazie per il follow E Quindi insomma Ci vedremo Su quest'account Nelle prossime live E nei prossimi video Visto che finisce su youtube Se qualcuno di youtube È nuovo nel mio canale Non mi conosce Venite in live Sul sito viola Che qua faremo l'avventura In diretta E comparirete anche Nei commenti qui sotto E niente Ci vediamo appunto In un prossimo video Sicuramente Uscirà settimana prossima Al prossimo Questo esce sabato Lo dico a voi E invece Settimana prossima Faremo la seconda parte Prima che io parta Perché poi vado via Quindi me ne faccio un'altra E niente Bene Detto questo Per questo video È tutto Grazie a tutti Grazie per la visione!